lol creeder dati Ahahahah! Juked! Lolz! Ho plasciato di là! Rektan! Eeeh lol ho plasciato dall'altra parte! Come l'ho giucato lol? K. Penso eh! Ecco la clip del giorno! Fatta! Mi piace! Yuppie! Si io so che me ne ho messo il collo! Maestrie adesso le faccio vedere subito quali sono le masteries! Eeeh allora le maestrie le maestrie masteries eeeh eccole qua queste cose sono quelle che sto usando adesso! Eeeh! Eeeh! Words that I say! Downtown the lights out but we choose to stay! I don't know where this may go! These strangers know all the words that my souls I tell! She loving our style!